buongiorno a tutti io sono alfrede73 benvenuti sul mio canale oggi andiamo ad effettuare una modifica a questa lampada led e la vado a trasformare in una aspirafumi per il mio laboratorio di elettronica in questo modo avrò sempre a disposizione una fonte luminosa e un aspirafumi sul mio laboratorio vediamo insieme come procedere beh anzitutto ci servirà la lampada led la sola lampada funziona 5 volte e assorbe 0,7 ampere è una lampada abbastanza economica e ha un'ottima resa di intensità di luce i comandi sono tutti i touch grazie alla sua base è possibile selezionare diverse tonalità di luce dalla gialla alla bianca e diversi livelli di intensità luminosa attraverso un cursore touch è possibile regolare in diverse angolazioni la lampada è disponibile una funzione timer che consente l'auto spegnimento dopo 30 o 60 minuti dispone di una uscita usb fissa cioè non comandata dalla lampada a questa uscita collegheremo una ventola 12 volte 0,25 ampere per pc attraverso un circuito di interfaccia per convertire i 5 volte della lampada in 12 volte per la ventola utilizzerò questo step up converter questo modulo infatti è in grado di elevare la tensione di 5 volte fino a 12 volte regolando il trimmer multi giri per una corrente massima di un ampere ma torniamo alla nostra ventola ed effettuiamo la prima modifica andiamo ad inserire una griglia che ci permetterà di proteggere le pale della ventola dagli urti si tratta di una rete elettrosaldata di quelle utilizzate per il giardinaggio con degli spezzoni di filo di ferro vado a fissare la rete ai quattro fori per questo fissaggio potrete utilizzare anche delle fascette da elettricista mi procuro un blocchetto in legno che ha la stessa profondità della ventola sulla ventola ho ricavato due fori da 2 3 mm attraverso i quali andrò a fissare con delle viti la ventola al mio blocchetto in legno si tratta di viti autofilettanti per legno da 2 3 mm massimo di diametro a questo punto andiamo un attimo ad approfondire il nostro step up converter questo dispositivo accetta in ingresso tensioni che vanno da un minimo di due ad un massimo di 24 volt e riesce ad innalzarle attraverso il triple multi giri fino a 28 volt maggiore il differenziale tra attenzione di uscita e tensione d'ingresso minore l'efficienza del circuito e quindi maggiore l'assorbimento di corrente soprattutto a correnti più elevate più la tensione di uscita è prossima a quella di ingresso maggiore sarà l'efficienza del circuito con un minor consumo di corrente maggiore il differenziale tra attenzione di uscita e tensione d'ingresso minore la corrente che possiamo prelevare osservando lo schema elettrico il cuore di questi step up converter è l'integrato mt 3608 questo circuito genera delle onde quadre che vengono raddrizzate dal diodo shot key e livellate dal condensatore di filtro per generare la maggiore tensione in uscita l'efficienza massima che è possibile raggiungere è pari al 93 per cento ma ripeto soltanto quando il differenziale tra la tensione d'ingresso e di uscita è al massimo di tre volte man mano che si sale in questo differenziare l'efficienza diminuisce ed aumenterà anche l'assorbimento di corrente con del biadesivo vado a fissare il converter sul retro del blocchetto in legno anzitutto andiamo a regolare il voltaggio di uscita collego il mio voltometro sull'uscita di questo modulo alimento a 5 volte il modulo in questo momento abbiamo sull'uscita a 9 volt vado a regolare il trimmer multi giri in modo da ottenere sul display del multimetro la lettura di 12,5 volte circa vi raccomando di effettuare questa taratura prima di collegare il nostro dispositivo altrimenti rischierete di bruciare la ventola è il momento di effettuare le saldature dei terminari positivo e negativo che vanno alla ventola e a questo punto il nostro circuito è pronto per essere collegato alla lampada vi ricordo che la presa di uscita di questa lampada è perennemente collegata e quindi non è comandata in alcun modo dall'accensione della lampada la semplice connessione di un alimentazione 5 volte farà quindi accendere la nostra ventola e allora andiamo a fissare questa ventola sulla base della lampada per l'occasione utilizzo un diadesivo più spesso più spugnoso che permette di aderire meglio alle asperità del blocchetto di legno se vi sta piacendo questo video questo è il momento giusto per mettere un bel like ed iscriversi al canale fissata la ventola e verificata la sua solidità e l'utilizzo anche dei comandi vado a collegare questo cortissimo cavo da usb a micro usb che alimenterà il mio circuito convertitore di tensione poiché la lampada non ha in dotazione a un suo alimentatore usb mi procuro questo alimentatore da 33 watt in grado di fornire una corrente massima di 3 ampere questo alimentatore usb sarà collegato alla stessa presa di corrente che comanda i miei vari saldatori bene una volta alimentata la lampada con questo alimentatore da 5 volt anche senza accenderla la nostra ventola di aspirazione entrerà in funzione aspirando tutti i fumi prodotti ad una distanza di circa 20 centimetri in questo modo non solo ho ottenuto una valida fonte di illuminazione per i miei circuiti elettronici sempre troppo piccoli ma anche un aspirafumo molto potente per il mio piano di lavoro con un'ottima illuminazione è tutto questo grazie a un semplice circuito convertitore step up che funziona convertendo i cinque volte in 12 volte per questa ventola di aspirazione bene amici anche per oggi è tutto se il video vi è piaciuto mi raccomando pollice in su e come al solito iscrivetevi al canale e ci vediamo alla prossima volta